Il governo polacco sta facendo di tutto per creare una base militare statunitense permanente in Polonia. Un progetto denominato Fort Trump, un nome controverso che ha suscitato molte polemiche nel paese. Il ministro della difesa Mariusz Blasciak lunedì si recherà a Washington dove discuterà anche del piano. Questa è una soluzione vantaggiosa, utile per la Polonia. Il mio obiettivo è garantire la sicurezza in Polonia, dichiara in un'intervista televisiva. Ma questa soluzione è anche vantaggiosa per gli Stati Uniti, per il mondo intero, perché il fianco orientale della Nato è estremamente importante, tenendo conto della politica aggressiva della Russia. La Polonia ospita già truppe statunitensi come parte della Nato, oltre a un complesso per la difesa missilistica americano nella località di Rezikovo, nel nord del paese.